La più bella immagine della giornata è questa che adesso vi mostro, dura 14 secondi tutti da gustare. Sì, è Paquetà che corre sul tapis roulant nella palestra di Milanello, non è che corre o corricchia, va, va forte, la signora caviglia a destra, lui gioca però col piede sinistro soprattutto, sta funzionando molto bene, corre sorridendo, vuol dire che almeno nella corsa dritta, perché poi c'è anche la corsa con le torsioni, ma almeno nella corsa dritta il giocatore sta rispondendo alla grandissima o meglio la caviglia del giocatore. È una bella notizia, non tanto per il match contro la Lazio, ma per il match, secondo me, qualche minuto a Parma e poi invece contro la Lazio nella semifinale di ritorno il 24, la data il 24 aprile. Due partite con la Lazio che si annunciano ribollenti di pubblico, quindi partite davvero Milan, il pubblico risponde e sta vicino ai ragazzi. Oggi i ragazzi sono rimasti in palestra, niente allenamento fuori e quindi non possiamo valutare le condizioni di Andrea Conti, anche se, scusate, penso proprio che possa riuscire a essere protagonista, almeno partendo dalla panchina nel match già questo sabato contro la Lazio. Arbitro, signor Rocchi, quindi un arbitro esperto, un arbitro internazionale, un arbitro ben conosciuto e che dà tutte le tranquillità del caso per la sua esperienza, per la sua sicurezza. Poi succede quel che succede, ma lo dico prima della partita. Così dopo, no ho sbagliato, no, Rocchi ovviamente è un arbitro affidabilissimo, espertissimo. Per quello che riguarda Donnarumma invece, già ieri vi avevo detto, impossibile recupero e probabilmente cercherà Gattuso di recuperarlo per il match contro il Parma che si giocherà alle 12.30 di sabato prossimo, vigilia di Pasqua, quindi dovrebbe essere. Per quello che riguarda la formazione, l'unico dubbio potrebbe essere, per me non esiste il dubbio, quello di Musacchio eventualmente con la sostituzione di Zapata, che però non gioca da tanto tempo, credo che alla fine non rischi nulla. Musacchio ha dato sempre ampie garanzie di sicurezza, chiaro è stato un po' troppo irruento nel colpire la gamba destra di Dybala, che poi qualcuno non aveva neanche notato, si è toccato la sinistra, ma magari cadendo non è detto che abbia preso la colpo lì, però non andiamo a ricordare quella partita, ormai è dimenticata perché se no ci viene un po' di mal di pancia. Per quello che riguarda poi, ho parlato di Maldini oggi, quando appunto ha parlato della probabile, cioè dice Gattuso, l'augurio di tutti è di confermarlo, lo vogliono confermare, però ha detto un'altra frase importante sul deferimento del Milan alla Camera giudicante da parte dell'UEFA comunicato di ieri. Potrebbe addirittura essere un atto incostituzionale, non permettere a una società sana, senza debiti, di cercare di rinforzare la rosa, di entrare in maniera importante e significativa nel mercato. Quindi un atto che sfiora la incostituzionalità. Questo è quello che ha detto Maldini, parole forti di uno dei dirigenti massimi del Milan. Adesso vedremo, vedremo quello che succede, ne ho già parlato prima, ne ho già parlato ieri, quello che mi interessa è attenzione, voglio che lo rivediate. Ecco i 14 secondi di Pachetà che vola sul tapì Rulam. Ecco, torniamo a me. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegati.